non esiste un fiocco di neve uguale ad un altro sono unici come le tue esperienze geometrie perfette puro design ogni fiocco non cade mai nel posto sbagliato si posa lentamente sul paesaggio senza fare rumore così tutto diventa più un magico magico come le stelle in continuo movimento ed evoluzione e poi tutto si ferma in un'armonia perfetta grazie a tutti